Sono Pietro Di Stefano, sono amministratore uscente della Giunta Cialente, ero capogruppo del PD prima del terremoto, dove il terremoto Massimo mi ha chiesto di entrare in giunta e sono entrato. Sono entrato con una responsabilità indifferente, assessore alla ricostruzione. Ho scelto ancora di stare con Massimo perché credo che questa città abbia bisogno ancora di Massimo, abbia bisogno della sua capacità, della sua conoscenza, della sua sensibilità, della sua signorilità, anche del saper assorbire le cose e delle sue relazioni con l'Italia, con il governo e con il mondo. Anche quando sono venuti gli stati esteri si sono rivolte a Cialente e ancora arrivano in comune le lettere che chiedono a Cialente come va la ricostruzione dell'Aquila. Ecco appunto, come va la ricostruzione dell'Aquila? La ricostruzione dell'Aquila non va. Noi abbiamo detto quello che pensavamo diverse volte. Adesso sappiamo tutto, come andare avanti. Il piano di ricostruzione l'abbiamo fatto, il Consiglio l'ha adottato, il commissario non intende dare seguito. C'è bisogno ancora della forza di Cialente per dare un futuro a questa città. C'è bisogno della forza di Cialente con gli assessori che Cialente ha avuto intorno. Ecco perché io e tanti altri abbiamo scelto di fare questa campagna elettorale insieme a noi. A lui, all'Aquila, per far diventare l'Aquila quello che era prima ma più bella di prima. Perché noi aquiladi sappiamo come fare per fare l'Aquila una città regina del centro Italia. Quindi forza al massimo e forza ai partiti che lo aiutano.